Andrò via per un po', lontano dall'Italia, poi si vedrà, ma rivolgo indietro la mia vita, una vita normale. Roberto Saviano si sfoga dalle pagine di Repubblica all'indomani del colloquio con i magistrati di Napoli che stanno valutando l'attendibilità delle rivelazioni del pentito Carmine Schiavone sul piano pensato dal clan dei Casalesi per eliminarlo perché ha detto è scritto troppo. Non vedo alcuna ragione per ostinarmi a vivere così, prigioniero di me stesso, del mio libro. La bolla di solitudine che mi stringe fa di me un uomo peggiore, sono diventato sospettoso e guardingo. Io non sono così, voglio una vita, una casa, poter uscire a bere una birra, innamorarmi, passeggiare, prendere il sole, vedere i miei amici. Cose normali per un ragazzo di 28 anni, impossibili per uno come lui costretto a vivere sotto scorta 24 ore su 24. Soprattutto voglio ancora scrivere perché questa è la mia passione e la mia resistenza e per farlo devo affondare le mani in me la realtà, non vivere in una caserma spostato come un pacco postale senza sapere cosa può succedere, in uno stato di sbarrimento perenne che mi impedisce di pensare, di capire cosa fare. Circondato dall'odio e dalla solitudine per aver raccontato l'inquietante realtà della sua terra, nella sua città non riesce nemmeno a trovare una casa in affitto. Mi mostrano disprezzo più che paura, ma quale delitto ho commesso per vivere come un lebroso o un recluso? Qual è la mia colpa? Ho solo voluto raccontare la storia della mia gente e della sua umiliazione. È questa una colpa? A Raffaella Dainos, SkyTG24